Ciao a tutti amici interstellari, noi siamo ora i consiglieri, gli osservatori di una società molto peculiare, come potete vedere questo è il nostro sistema solare, ma a dominare la terra, rinominata Roma, non ci sono gli esseri umani, ma i Crenci, una popolazione di necroidi, dei parassiti, che una volta discesi sulla terra, sono diventati i nuovi padroni, ma studiando la terra, sono rimasti così impressionati dall'impero romano, dalla storia dell'impero romano, che l'hanno fatta loro, prendendo addirittura nomi romani, l'imperatore Maio Gallius è il governatore, mentre l'imperatore Marcellus Mamilius è il supremo imperatore, loro sono uno sceme di volatore, con un network neurale. Allora, facciamo un pochino di... Ah, non posso. Non posso pure. Ah, bello. Allora, eh... Allora... Salvei... Salvei... Eeeh... Quindi partiamo. vediamo un pochino che c'è unità ah già vero qui hanno relitti grifi allora e quindi si avanza allora andiamo un pochino su sto pianeta che possiamo fare mmm research lab spawning poll amenities and monthly organic ah ottimo miglioriamo la crescita ottimo ah interessante i artifatti minori si ok allora muoviamoci allora allora lascialo per ora è di livello 4 quindi ci torniamo più avanti invece c'è allora i leaders contatti allora split me leaders scienziati survey speed ok ottimo su procheon su procheon 4 bard and world ah ok allora adattibilità diplomazia non mi serve perché sono una supremazia un yielding un yielding che cos'è star base capa ah è difensivo sincronicità espansione si allora non so se posso mandare le spie con loro mi sa di no quindi facciamo espansione colonie di speed ottimo allora ottimo si prende qua ah ah allora eh vediamo di togliere fin allora allora vediamo un pochino spawning pulse eh hunter seeker mi diminuisce allora housing facciamo così ah scienza allora ho ancora eh ah ottimo allora shine ship tu vai qua no ok allora e tu mio caro scendi scendi qua poi tu sali ok ok eh allora stiamo a quanto 8 minuti dovrei ricordarmi di mettere sempre un allora 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 empire sprawl pop nodo sinapsi stiamo a stiamo a stiamo a allora uh ah scusa ma per livemind system technology eh si ma con con quali edifici controllo ah ottimo 5d ottimo survey e survey ah ancora nuova colonia iniziano con routine ottimo e tu vai qui eh allora tu un buon generale aggressivo ok eh ok e quindi si si avanza e si colonizza per ora che spreco oh questo sistema è molto molto ricco vediamo di fare un'altra nave costruttiva si ottimo ok quanto ho 4 4 allora se io guadagno scusa allora in 24 mesi 24 14 14 Allora, almeno, uff, maintenance, facciamo, uff, questo, che fa, ah, monthly unity, si, monthly unity, che è sempre utile. Ok, tu vai a fare lo servizio in post e le mining station, allora, allora, vendiamo un po' di cibo, che ne produciamo a iota e compriamo minerali. Facciamo alloy. Sto scoprendo dei sistemi ottimi e dei sistemi mediocri. Da una colonia più cinque. Ah, dal lavoro, scusa, eh, un attimo, popolazione. Complex drone, spawning drone. Ah, synapse drone, administrativi capaci, produce, tre cinque. Menial drone. Ok. Ok. Allora, stiamo a... 14. Vabbè, tra poco ci lasciamo. Pop, grow speed e... Aumentiamo la velocità di conversione. Ok, allora. Research. Ah, affascinante. 6 e 7. Ah. Cioè, a me piace, quando scopro questi sistemi ricchi, il bello del gioco procedurale. Cioè, non è come Europa Universalis. Tu sai che in quella zona ci sono province tipo con loro o con risorse ricche o molto costose. Rulers. Assembling. 80%. Se io li invadessi, ora, quando... Il survey ha terminato. Più 10, per ora. Construzione. Completa. Reservative. Output. Ottimo. Uh. E tu vai a depredare qui. Così. Così divento molto più potente e ricco. E... Facendo così, facciamo passato il mese. Ci salutiamo. E... Ci salutiamo. E...